In occasione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, la Polizia di Stato ha reso onore al suo patrono con una santa missa devozionale al Santuario di Madonna delle Grazie a Pesaro. Ad ufficiarla, il Vescovo di Fano, Fossombrone Caglipergola Armando Trasarti, coadiuvato dal cappellano della Polizia di Stato Don Giacomo Mura. La ricorrenza, già ricca di significati per gli agenti e per gli alti valori testimoniati dal suo patrono, rappresenta anche un momento di aggregazione per gli appartenenti all'amministrazione, compresa quella civile, di ogni ruolo e qualifica accomunati dal servizio quotidiano reso alla collettività. Infatti queste sono le occasioni nelle quali noi celebriamo proprio l'impegno della Polizia di Stato, ma in genere di tutte le forze di Polizia per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e la civile convivenza. Il prefetto Luigi Pizzi è intervenuto poi sulla carenza di organico tra le forze dell'ordine. Su qualunque territorio sarebbero sempre utili più uomini, ma purtroppo questo non lo si può ottenere, quindi il nostro scopo e il nostro impegno è quello di migliorare il loro impiego attraverso un migliore coordinamento, sempre migliore coordinamento, oltre quello che già c'è che comunque è efficace e riesce a garantire ottimi livelli di tutela dei cittadini.